Signore Dio Web, che abiti nei nostri smartphone e che vieni chiamato internet, volgi la tua webcam su di noi nel nome del tuo figlio YouTube. Mi piace, dacci oggi il nostro selfie quotidiano e commenta a noi i nostri post, come noi li commentiamo ai nostri seguitori. Non ci indurre alla formazione, ma liberaci dallo spa. Mi piace! E sei illuminato! E mi invece hai illuminato con lui! Ho avuto l'illuminazione proprio! Con il mio pontificato, voglio riunire le tue grandi fedi del nostro tempo. La fede del Dio Web e la fede del Dio Denaro! E tutto è cambiato in pochi anni. In pochissimi anni, fino a qualche anno fa, se mi avessero detto, ci sono mille persone che ti seguono! Mi sarei girato a spaventare! Non devo soldi a nessuno, non ho debiti! Adesso facciamo a gara delle sue seguiti. Noi non siamo altri che quello che consumiamo! Cadete in tentazione! Prima cosa ci facevamo con questo video? Un massimo l'autostop! Adesso con l'unico possiamo viaggiare nel tempo, viaggiare nello spazio e connettersi tra di noi. Un dito omnipotente! Un dito omnipotente! Che clicchi i profili del Web! A più mi piace per noi! Digito ErgoZoom! Digito! Quindi sono! Digito ErgoZoom!